siamo all'interno del cad dell'interfaccia grafica di xpad come vedete a video abbiamo un rilievo di una strada con dei punti rilevati ma anche delle entità cad disegnate usciamo un attimo dal cad se andiamo su punti e misure giusto andare a vedere andiamo verso il punto eccoli qua il 26 modifica vediamo che ha un'immagine associata come ci sono altri punti con delle immagini associate dopodiché se andiamo sul sistema di coordinate vediamo che è stato definito un sistema di coordinate locale locale quindi con origine sul punto g1 quindi il punto g1 avrà coordinate 00 perché è origine del sistema per cui ho fatto un po una panoramica delle configurazioni all'interno di xpad dei punti e delle misure rilevate adesso andremo su topos e vediamo come importare questo lavoro che abbiamo appena visto eccoci all'interno di topos con un lavoro vuoto siamo rientrati in studio dopo aver terminato il rilievo abbiamo collegato il nostro tablet al computer tramite il cavo usb se il tablet lo richiede ricordiamoci di attivare la scrittura la lettura dei file se il tablet è acceso non vorrebbe essere necessario però alcuni tablet alcuni smartphone nel momento in cui vengono connessi al pc richiedono appunto di attivare la scrittura la visualizzazione la lettura dei file quindi ricordiamoci questa questa opzione se necessaria allora dicevo siamo su topos adesso ci accingiamo ad importare il lavoro che abbiamo appena visto su xpad come facciamo andiamo nel menu file importa e tra le voci di importazione troviamo rilievo geomax xpad selezioniamo questa voce compare questa finestra che ci avviarà ad una procedura guidata allora o utilizziamo la procedura guidata o in alternativa se ci siamo vandati via email o via cloud o abbiamo copiato preventivamente il file rov generato da xpad possiamo utilizzare il pulsante import a file e andiamo e andiamo selezionare il file con estensione punto rov che xpad genera automaticamente ogni volta che si crea un nuovo lavoro per cui se non vogliamo utilizzare la procedura guidata basta utilizzare il pulsante import a file noi adesso andremo ad utilizzare la procedura guidata quindi selezioniamo il tablet o lo smartphone la periferica in genere su cui è installato xpad questo caso il galaxy tab il mio tablet che utilizzo per i rilievi sulla destra qua abbiamo un po di opzioni quindi importa coordinate ricalcolate da xpad per cui xpad fa un calco di coordinate quindi possiamo importarle elimina misure gns doppie quello che consiglio sempre di lasciarlo attivato importa l'entità cad in questo caso sì perché le abbiamo viste importa sistema di riferimento che questo abbiamo visto attiviamo anche importi immagini associati ai punti perché anche quello se vi ricordate abbiamo visto c'erano delle immagini e direi basta diciamo queste sono le opzioni che genere vanno attivate l'elaborazione automatica in genere consiglio di lasciarla disattivata perché poi l'elaborazione la si fa una volta importati i dati soprattutto verificate delle misure che abbiamo che abbiamo caricato per cui clicchiamo la periferica e poi su avanti il programma mi propone le memorie che sono all'interno del tablet il programma è sempre installato nella memoria principale quindi non nelle card non nelle sd card eventualmente installate nel tablet qui selezioniamo sempre la memoria principale avanti a questo punto il programma sta si collega al tablet e sta ricercando tutti i lavori presenti all'interno del del tablet stesso ecco qua compare una lista di tutti i rilievi fatti che il programma che topos ha trovato all'interno di xpad il lavoro che vogliamo importare si chiama strada punto rovo lo selezioniamo e poi clicchiamo il pulsante importa a questo punto siccome abbiamo selezionato di importare anche le immagini il programma ci invita a selezionare una cartella locale del pc dove andare a memorizzare le immagini che ha trovato associati i punti e che ha trovato all'interno del tablet quindi o ci creiamo una nuova cartella io vado l'avevo già creata immagini xpad ok e quindi lui ha importato ci avvisa guarda che ho trovato anche delle entità cad però queste saranno visibili a video solo dopo aver elaborato il libretto quindi un'informazione clicco ok benissimo quindi siamo andati automaticamente nella vista libretto delle misure nel quale troviamo la base gps con tutte le baseline rilevate con tutti i punti rilevati che vediamo qua insomma a video adesso clicchiamo sul titolo del lavoro se andiamo su gps panimetria vediamo che il programma ha impostato automaticamente un sistema locale se vi ricordate c'era il punto g1 con origine sul sistema il sistema del sistema locale e infatti il punto g1 vediamo qua vrs è stato impostato automaticamente come origine del sistema locale adesso andiamo ad elaborare quindi il programma si è accorto che ha importato anche dell'entità cad e ci dice guarda su che layer andiamo a generare a inserire l'entità cad per cui qua posso scegliere o lascio layer default o se non posso selezionarmi un layer specifico che voglio io quindi genera entità cad quindi non contorni perché vogliamo delle poliline in porta ok ha terminato l'elaborazione per cui come dicevo vedete qua sistema locale sul punto g1 come esattamente era su x pad e ai punti 26 e 27 è stata associata all'immagine se vi ricordate c'era l'immagine su quei punti lì per cui adesso andiamo in planimetria a giusto così vediamo il punto g1 per conferma a coordinate 00 per cui il punto g1 è origine del sistema locale esattamente come in x pad e vediamo che sono state importate anche l'entità cad se vi ricordate lo schema di rilievo era esattamente questo con la polilinea e tutti i punti rilevati andiamo adesso a verificare il punto 26 se vi ricordate nel punto 26 c'era un'immagine associata se andiamo su 26 vedete che il programma automaticamente ha associato anche l'immagine che avevamo su x pad per cui si tratta di un'importazione completa senza perdita né di sistema di riferimento né di entità cad né di punti né di immagini e anche la procedura guidata abbastanza semplice per cui non per quanto non c'è nell'importazione da queste strumentazioni direi che non ci sono problemi adesso andremo ad affrontare l'operazione inversa ovvero quella di andare a ricaricare su x pad dei punti da tracciare qua ho lasciato aperto il rilievo che ho appena importato nel quale ho aggiunto dei punti che vediamo qua t1 t2 t3 t4 t5 fino al t8 che sono dei punti che ho chiamato punto t che sta per tracciamento dei punti che ho inserito a cad dei punti da tracciare che adesso devo andare a ricaricare su x pad per il tracciamento allora come faccio vado sempre nel menu file esporta e trovo la voce ricarica su geomax x pad ok a questo punto il programma mi dice guarda che punti devo andare a ricaricare non è necessario ricaricare tutto il rilievo ma solamente i punti che mi interessano io decido di selezionare tutti questi punti ovvero evidentemente i punti da tracciare più alcuni punti di verifica perché è chiaro quando si va a tracciare meno io abituo sempre oltre i punti ad andare appunto a tracciare anche dei punti che ho rilevato in precedenza per andare a verificare la bontà del posizionamento quindi selezioniamo i punti tasto destro conferma compare sempre la procedura guidata nella quale qua sulla destra abbiamo tutti i punti da ricaricare e qua sempre il la procede diciamo le periferiche collegate tra cui il tablet in alternativa se non vogliamo utilizzare la procedura guidata c'è il pulsante crea file che andrà a creare un file con estensione punto rov che poi potrà essere importato su all'interno di x pad per cui mi creo il file punto rov una volta creato me lo vado a copiare manualmente all'interno di x pad nella cartella del cantiere dove dove sto lavorando e poi me lo importerò su x pad o in alternativa come vedremo adesso lo si può fare tramite la procedura guidata per cui seleziono tablet avanti sempre la per il memoria principale avanti ecco mi chiede su quale cantiere inserire il lavoro come sapete x pad possibilità di suddividere e diciamo raccogliere i lavori su vari cantieri in questo caso ce n'è solo uno quello di default quindi seleziono questo il nome del lavoro lo chiamo tracciamento 1 ok e clicco il pulsante ricarica allora il programma mi avvisa che nel è stato inserito anche il sistema di riferimento per cui in fase di importazione x pad riconoscerà anche il sistema di riferimento che ho impostato su topos è un avviso che il programma mi dice quindi verifica se il sistema di riferimento che carichi è lo stesso che è impostato insomma si tratta semplicemente di un'informazione in più che dà in fase di ricarico quindi ok punti ricaricati con successo adesso andiamo su x pad e vediamo come visualizzare e utilizzare i punti appena ricaricati eccoci nuovamente su x pad siamo nella schermata principale nella gestione dei lavori per cui adesso andiamo sul menu utilità lavoro e selezioniamo la voce recupera lavoro il programma ci avvisa guarda che la procedura creerà un nuovo lavoro benissimo quindi ok vediamo che tra tutti i lavori disponibili c'è anche il file tracciamento 1 che abbiamo appena esportato da topos tramite la procedura guidata quindi ce lo troviamo già pronto quindi senza andare a cercarlo lo selezioniamo ok il nome che lavoro lo chiamiamo tracciamento 1 automaticamente lo chiama con lo stesso nome ma se vogliamo possiamo cambiarlo ok qua vi chiaro non ho la posizione gps perché sono all'interno dell'ufficio e quindi non è il gps collegato per cui ma se avessimo il gps collegato questa finestra non comparirebbe ecco che il programma ha caricato il lavoro se andiamo sul cad velocemente vediamo che troviamo i punti g1 54 ma soprattutto troviamo i punti t1 t2 t3 t4 t5 t6 ecco i punti di riferimento che abbiamo creato all'interno di topos pronti per essere tracciati sul posto tramite appunto xpad torniamo un attimo indietro se andiamo sul sistema di coordinate vediamo che il sistema di coordinate è un sistema locale con origine su un punto chiamato origine se sistema di riferimento che ha creato topos ma è l'origine che è stata impostata su topos esiste meglio lo stesso sistema di riferimento impostato su topos con la stessa origine per cui anche qua non abbiamo perso assolutamente nulla abbiamo i punti stesso sistema di riferimento e i punti sono qua pronti per essere tracciati e senza nessun problema quindi con questo concludo il video per quanto concerne scarico ricarico da geomax xpad